Ehi, sveglia! Sveglia, lince! Dai, svegliati! Dai che sono le otto, lince, dai, su, sono le otto! Posticipo la sveglia, posticipo di dieci minuti, ti prego, ti prego! Posticipo? Dieci minuti? Ok, ci vediamo dopo. Se il cellulare fosse una persona! Ok, mi fai una foto, ti prego, ti prego! Perché palle! Però dal basso, eh! E metti il filtro bianco-nero, per favore! Grazie! Vieni a vedere com'è venuta! A vedere! Wow, bellissima! Andiamo, dai! E chi è ora? Il nuovo messaggio da Ilaria! Riproduci, dai! No, scusa se ti rispondo solo adesso, ma stavo cagando, dovresti vedere che è stroppo! Che schifo! Oddio, non ce la faccio più! Non ce la faccio più! Oddio! Oddio, il 2%! Svegliati! Mi sto per spegnere! Aspetta che ti attacco, aspetta che ti attacco! Mi sto per spegnere, non ce la faccio più! Oh, mamma mia! Oh, ma hai rischiato tantissimo, mi stavo per spegnere! Lo so, mi piace rischiare! Eh, ti piace rischiare! La prossima volta proviamo l'1%, sai il coraggio, eh! Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te! Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno! Dammi tu cosita! Ah, ah! E dammi tu cosita! Ah, ah! Chiamata, mamma mia! Il frutto del tuo seno, Gesù! Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori! Ehi Siri, riproduci Chiasso su Spotify! Senz'altro! Io ti parlo con il cuore e il mano! Chiamata, Mario! Ma questo chiama sempre quando vuoi vedermi le cose io! Chiamata, Mario! Ma basta! Metti la vibrazione! Metti il silenzioso! Ti devo mettere in modalità, aereo! Mettimi una canzone che si addica di più o meno una... Che racconti di me e della mia vita? Non lo so... Ce l'ho, ce l'ho! A me piace la nutella, gelata e la panna! Ma poi ti per me! Ma aspetta! Allora, digli, mi manchi tantissimo, non vedo l'ora di stare con te! Sarà fatto! Allora, rispondi... Se sarai lì, ti bacerei! Va bene! 0,3 decimi di secondo sono sempre un mostro! Comunque ti risponde... Se sarai lì, ti bacerei! Fossi! Ho capito? Sei ignorante, non è colpa mia! Io devo solo riferire quello che ti dice! Bloccalo subito! Ok! Era da tempo che volevo dirtelo! Oh, nidiocchere! Non ci credo! È tardissimo, andiamo! Ma cosa fai? Ma scusami, è tardi! Devo andare via! Ma io sono ancora al 60%! E cosa ci posso fare? Vado via senza telefono! Ho capito! Ma se tu mi porti via adesso, io non arrivo a stasera! Mi spengo! E ti tolgo i dati, che devo fare? Vai, andiamo! Poi non ti lamentare che non puoi fare le storie Instagram! Eh, vabbè, andiamo! Dai! Schitte le volte! Non è possibile! Perché lo perdo il senso? Baila al tuo corpo, allegria, Macarena! Eh, Macarena! Eh! Baila al tuo corpo, allegria, Macarena! Vai! Eccoti, finalmente! Ma com'è che ogni volta ti perdo sempre sotto le coperte? Baila al tuo corpo, allegria, Macarena! Eh, Macarena! Eh! Però sono 40 minuti che stai cagando, io sto morendo intossicato! C'è una puzza indietro! Senti, però ti lamenti sempre! Questa è la tua funzione, devi saperlo! Quindi io sono stato progettato per sentire la puzza di me! Allora, signorina, lei mi sta dicendo che vorrebbe denunziare la scomparsa del suo apparecchio elettronico carnale, giustamente? Sì, esatto! Procediamo con il blocco? Procediamo, sì! Va bene, signora! Allora, da questo preciso momento, il suo telefono carnale elettronico verrà bloccato! Chi in questo sia vorrebbe usare il suo telefono, lo troverà bloccato! Va bene, signora? Grazie mille! Oh! Si accende più il suo telefono di merda? Ti accendi? Ma dimmi te, oh, sti telefoni del cazzo! Ma mi hanno impegnato così tanto a rubarlo! E ora non funziona! Accenditi! Lascia un commento, metti mi piace, cosa ti costa del che sei capace! La coppia che scoppia! Se il video ti è piaciuto, lascia un commento e iscriviti al canale! La coppia che scoppia, sono come noi! La vita di coppia, vissuta l'eròe! La coppia che scoppia, è un'esplosione! Clicca d'alice dentro il nostro cuore!